Dunque approvato il bilancio di previsione 2012 della Regione Abruzzo, siamo con Nicoletta Veri, consigliera regionale del PDL, presidente della Quinta Commissione. Presidente, che bilancio è questo? È un bilancio che deriva da un confronto costruttivo, da un dibattito molto acceso, infatti è durato fino alla tarda nottata, inizio mattinata, perché abbiamo raggiunto un bilancio. Un bilancio che è vero, non porta grandi elementi costruttivi, non dà grossi fondi come accadeva nei vecchi bilanci delle precedenti legislature, perché come sappiamo siamo in un periodo di congiuntura, oserei dire quasi di timore di recessione nell'ambito sia nazionale, ma non certo per la Regione Abruzzo. È il periodo in cui non si possono elargire, come venivano elargiti, ripeto, precedentemente fondi, però è un bilancio, se dire, di una famiglia che ha dovuto che c'era in maniera equa e sicura per quei cittadini della Regione Abruzzo. Abbiamo... ...con l'opposizione nell'ambito della sanità... ...dificare l'articolo 32, 32 per far sì che... ...potesse essere svolta anche da altre situazioni, da... ...quindi dare risposte sul territorio per quanto riguarda le faccine... ...de diversamenti abili. Abbiamo parlato di fondi per una migliore ristrutturazione del nostro territorio, quindi per una maggiore viabilità. Abbiamo dato delle risposte ad alcune esigenze minime di alcune associazioni, tipo il metodo DOMAN, perché servono sempre questi fondi a queste famiglie. Sono stati, diciamo, diversi emendamenti che hanno trovato un valido riscontro e una convergenza importante per i nostri cittadini. ... ... ... ...